Ok ragazzi, andiamo a lavorare i nostri glutei con il tempo di musica, la camminata veloce, la cosa importante è di mettere tutti voi stessi in questo allenamento, ok? Ci siamo. Occhio, andiamo in step, slancio, step, slancio, step, slancio, step, slancio, quattro ancora, lento, tre ancora, lento, due ancora, lento, uno, vai, uno, vado, tira, respira, ok, continui. Spingi sulle gambe e continui a fare questo passo, potete anche mettere le braccia giù, proprio per sentire come state lavorando sui glutei, spingo, vado, ok. Dobbiamo semplicemente concentrare un bel po' di minuti solo ai nostri glutei, niente altro, ancora, quattro, tre, camminata veloce, vado. Ok, scendo sulle gambe, scendo sulle gambe, aggiammina le tesi, lavoro sui taloni, ok, e provate di avanzare o fare avanzare il tappeto con i taloni, ok? Sto spingendo, due, tre, quattro, ancora, cinque, sei, continui, spingo sui taloni, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, rallenta la camminata, scendo, up, scendo, up, piccolo fondo, piccolo fondo, avanzo, usi anche le braccia, tieniti saldamente su il tappeto, scendo, salgo, scendo, salgo, due, ancora, tre, and, camminata, veloce, otto, vai. Grandi ragazzi, stiamo lavorando proprio per lavorare i glutei, lo possiamo ammettere magari dopo che abbiamo fatto un lavoro aerobico, lo possiamo fare dopo che abbiamo fatto un lavoro bailato, ok, slancio, e vado, schiaccio i glutei, lancio laterale, busto in avanti, abdominali tesi, continuo proprio a lavorare con tutto me stessa, per fare un lavoro per i glutei incredibile, spingo, spingo, ancora, ancora, sentila, 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 otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, spiace i glutei, voglio che l'hai sentito domani, il lavoro che abbiamo fatto, ancora, quattro, tre, due, occhio, scendo, scendo, scendo sui i glutei, ok, quello che mi fa avanzare il tappeto sono i talloni, e spingo con il tallone, e guardami i fianchi, anch'io, 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 posso anche aumentare volendo la resistenza del tappeto, la cosa importante è di pensare che è il tallone e il gluteo che ti sta facendo avanzare il tappeto stesso, il lavoro da là, ok, la cosa bella del magnetico è che controllo io, io sono il motore, continui, vai, vai, spingo, spingo, four, three, two, continuo, continuo, otto, sette, sei, ok, pronti per salire e torniamo in mini a fondo, su, scendo, and, non tornare troppo indietro perché rischi di scivolare via dal tappeto, perché il tappeto è lungo, ma non così lungo, scendo, and, scendo, centro, quattro, tre, squat, squat, quattro, tre, due, cammino, and, otto, sette, sei, cinque, quattro, mettete le mani, e mani di fronte a voi, and, sulle bande, due, tre, schiaccia su, i talloni, talloni, come on, come on, and, otto, sette, sei, cinque, il nostro recupero sarà camminata, ora vado, respira, eccellente ragazzi, così vi voglio, sudati, sorridenti, perché stiamo facendo tanto per i nostri glutei, ci siamo, vado allargare, e, vado, vado, schiaccio la, ti è proprio in diagonale, e concentro su il slancio e sulla contrazione del gluteo, ok, gluteo, gluteo, vado, vado, ancora, ancora, tira, tira, and, schiaccio i glutei, schiaccio i glutei con tutta la vostra forza, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, continuate a, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ultimo, otto, and it's otto, sette, sei, cinque, andiamo a camminare, abbassate sul nostro squat, otto, sette, ok, busto in avanti, schiaccio con i taloni, concentrati, ancora, vai, vai, schiaccio su i taloni, spingo, vai, vai, lo so che lo sentite, se lo sento io lo sentite voi, schiaccio, 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 vado, 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 ancora, ancora, schiaccio con quei glutei con tutta la vostra forza, ancora, push, 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 ancora, push, 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 altre otto, sette, sei, cinque, ultima, quattro, tre, affondi, piano, piano, affondo, up, affondo, up, affondo, and, lavoro sul talone, il ginocchio sopra il talone, ancora, vado, up, vado, up, spingo, ancora, spingo, ancora, spingo, and, spingo, vado, and, otto, ci siamo, ok, pronti per divaricare, andiamo in squat, i piedi devono essere leggermente sulle bande laterali, respira, ricordate anche l'acqua vicino di te mentre stai lavorando, perché stiamo facendo un grande lavoro aerobico, divarico, occhio, faccio, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, cammina, and, vado, respira, ancora, vai, vai, ancora squat, facciamo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, cammina, vado, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, and, vado, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, and, vado, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, eccellente ragazzi, un altro allenamento, il nostro tappeto magnetico, dedicato ai glutei, volendo lo presti, ripeterlo, ok, volendo, la cosa importante è di fare almeno dieci minuti al giorno, per avere il massimo del tuo corpo e il massimo del vostro sistema brucia grassi, il nostro tappeto è molto, molto aerobico e di conseguenza ci aiuta veramente a perdere peso, faccio dare a Jill, vi aspetto il prossimo allenamento insieme.